Cosa si cela dietro la strage di gatti uccisi a decine dallo scorso Natale nel quartiere Fontanelle di Pescara? Atti intimidatori? Magari di baby gang che spogano in violenza la noia? Questa mattina, in cerca di risposte in via caduti per servizio, il consigliere regionale 5 Stelle, Domenico Pettinari. Gatti torturati, dati alle fiamme, anche con dei petardi sparati addosso a questi poveri animali, poi messi di fronte a casa di alcune persone, potrebbe essere un atto intimidatorio, ritorsione e quant'altro. Fatto sta che qui c'è delinquenza e criminalità diffusa, è un quartiere completamente fuori controllo, un far west. Ecco, io dico, su questa cosa deve intervenire immediatamente l'amministrazione comunale. Qui ci sono telecamere, telecamere gestite dalla sala operativa della polizia locale, devono essere prese, viste, visionate e capire bene chi è che fa queste cose. Io ritengo che qui ci siano delle baby gang che si divertono a fare questi atti, ma poi sono le stesse baby gang che vanno al centro tante volte e vediamo di situazioni di violenza, situazioni di fiume, ma qui continua a persistere spaccio di droga, occupazioni abusive, un quartiere completamente in mano ai clan. I cittadini onesti non ce la fanno più con questo discorso dei gatti, ma tante intimidazioni ci sono state. Oltre ai carti bruciati e messi davanti alle case, ci sono stati cittadini che vengono fatti ogni giorno oggetto di minacce, intimidazione e quant'altro. Io ho chiesto un'unità fissa di polizia H24, mi sto sgolando. Sarebbe forse la risoluzione di tanti mali, perché tanti anni fa questa unità c'era, poi è stata tolta. Unità fissa H24 possono essere anche due militari, un poliziotto, che fanno una ronda continua in questo quartiere, ma si deve fare presto. Cittadini coraggiosi, un'associazione animalista intanto, provano a scuotere le coscienze nel quartiere, organizzando per sabato 18 giugno alle 21 una fiaccolata. Prendersela con dei gatti indifesi, ucciderli in quella maniera, è una cosa terrificante, che non denota soltanto un disagio sociale, cioè è proprio un problema psicologico profondo, perché questa cosa poi sfocerà, se te la prendi con un esserino indifeso adesso, che a quanto pare sono ragazzini, da grande che fai? Qui sembra che, non lo so, non sembra di essere a Pescara, da quello che sto sentendo anche qui adesso, cioè è una situazione che non va bene, è necessaria la partecipazione non solo di Fontanelle, ma di tutta Pescara. Ci sarà lei? Ma noi siamo vicinissimi, io ci sarò, sono qui anche con degli esponenti dell'associazione e collaboriamo assieme, diamo tutto il nostro supporto, anche perché io ho 20 anni che combatto in questi luoghi contro ogni tipo di illegalità e di violenza. Questa è una grave violenza nei confronti dei nostri amici animali, non si può, è una cosa veramente che ci si spezza il cuore.